Ancora una volta è stata sospesa anche per domani la raccolta dalle frazioni umida dei rifiuti solidi urbani a causa dell'impossibilità di conferire nell'impianto di compostaggio di Santa Maria. Nel giorno di sospensione del servizio dunque non si dovranno uscire mastelli dei rifiuti con la frazione umida, si dovranno uscire solo nel turno di sabato. Se nella giornata di giovedì, quando l'ecocalendario prevede la raccolta dei soli rifiuti indifferenziati, gli operatori dovessero trovare rifiuti mischiati davanti all'abitazione indifferenziato e umido, non ritireranno i sacchietti. Si invitano pertanto i cittadini a collaborare, selezionando correttamente i rifiuti e stando attenti al turno previsto nell'ecocalendario.